Occhio alla notizia Occhio alla notizia In studio, Marco Ferri Vediamo insieme i titoli Di questa edizione del telegiornale Un portavalori in transito A Fanno rischia di andare a fuoco Per cause accidentali Le fiamme subito spente dagli occupanti E dai vigili del fuoco I lavori sono già terminati da un pezzo Ma il sottopasso di Centinarola di Fanno Resta ancora chiuso E monta la protesta E' uscito oggi dall'ospedale Don Giuliano Marinelli L'ex parroco di Rosciano Rimasto coinvolto la scorsa settimana In un incidente autonome Adotta un cane a distanza E' la nuova iniziativa promossa Dall'associazione Melampo di Fanno Già oltre 50 le adozioni L'unedì prossimo Dopo il Tg Occhio alla notizia Partirà la nuova stagione Di primo cittadino Ospite il sindaco di Pesero Matteo Ricci Un cordiale saluto Dalla redazione di Fanno TV Benvenuti a questa nuova edizione Del telegiornale Occhio alla notizia Apriamo con un principio d'incendio Che si è sprigionato Questa mattina Da un portavalori In transito a Fanno Grazie al tempestivo intervento Degli occupanti del mezzo E anche dei vigili del fuoco Si è potuto scongiurare il peggio Tanta paura questa mattina Per un principio d'incendio Sprigionato si all'improvviso Da un portavalori in transito Ad innescare le fiamme È stato un problema L'impianto elettrico Nel vano motore del furgone Che stava percorrendo Via le 12 settembre a Fanno Gli occupanti del mezzo Due uomini Hanno visto fuoriuscire il fumo Dal cruscotto E non hanno perso un secondo Si sono fermati di fronte Agli ex cappannoni De carri di carnevale A lato della strada In direzione mare E con un estintore In dotazione del blindato Hanno tentato di spegnere il rogo Ma non è stato sufficiente Così sono stati allertati I vigili del fuoco di Fanno Giunti sul posto con due mezzi In poco tempo I pompieri hanno spento le fiamme Evitando che potessero propagarsi Al resto del portavalori Il furgone conteneva Una cassaforte Con il denaro contante Che era stata prontamente Estratta dal furgone E messa in sicurezza Distrutti o parzialmente bruciati Invece diversi fogli E documenti cartacei E' tornato a casa Don Giuliano Marinelli L'ex paroco di Rosciano di Fanno Rimasto coinvolto La scorsa settimana In un incidente autonomo A causa di un lieve malore Il sacerdote Di 80 anni Era stato trasportato Al Santa Croce di Fanno Dopo aver urtato Con l'auto Un veicolo in sosta In via Montevecchio Nel centro storico di Fanno Oggi all'ora di pranzo Don Giuliano E' stato dimesso Nonostante i lavori Cominciati due anni fa E apparentemente conclusi Il sottopasso di via Fanella In zona Centinarola Rimane chiuso Alla viabilità Numerose le segnalazioni Da parte dei residenti Che non capiscono Il perché ancora Non sia stato aperto È pronto per essere utilizzato La strada è stata Recentemente riasfaltata E gli arbusti E di rovi ai lati Sono stati estirpati Ma comunque Rimane chiuso al transito Questa è la situazione Del sottopasso In via Fanella Che colleghi quartieri Fanno 2 E Centinarola E che da due anni A questa parte È rimasto in disuso Dopo la sua costruzione Nonostante il raccordo Si è ultimato Il sottopasso Realizzato in occasione Dell'interquartieri Dell'ampiamento Della terza corsia Della 14 Rimane sbarrato Ed i residenti Si chiedono il motivo Prima che facevano Questi lavori Qua Guarda Da dicembre Che è chiuso Sicuro E hanno chiesto C'è diverse volte Prima di iniziare la scuola Per i bambini Passare con le bici Ancora niente Ancora non si sa cosa fare Visto Tra l'altro Secondo me Hanno sbagliato Anche decisamente Il progetto In quanto che Nel primo allargamento Per la terza corsia Perlomeno L'allargamento Era allineato L'attuale allargamento Ho dovuto La complanare È addirittura Storto da una parte Quindi L'impressione Che uno ha Scendendo Di ritrovarsi Un muro davanti Non so se voi L'avete visto È una cosa Allucinante Io sono anche ingegnere Mi è saltato All'occhio Però Evidentemente Qualcuno Non sa fare i progetti Visto che L'esproprio Era così ampio Potevano farlo almeno dritto Nonché un po' più largo Numerose sono le voci Che girano a riguardo C'è chi afferma Che manchi la segnaletica adatta Chi invece sostiene Che l'amministrazione comunale Si è indecisa sul da farsi Se trasformare il sottopasso In una strada Senso unico O ancora in una zona Ciclopedonale Per permettere soprattutto Ai ragazzi che tornano da scuola Di utilizzarlo C'è anche chi dichiara Che il passaggio Sia già aperto Ed utilizzabile Ma i New Jersey In plastiche Di cartelli di sbarramento Testimoniano il contrario Visto la situazione A questo punto È ovvio che non può essere A doppio senso E visto che ormai Siamo abituati Al fatto che non si passa In macchina Secondo me La cosa migliore Sarebbe Lasciarlo pedonare Ciclabile E basta Illuminandolo Però perché è veramente Pericoloso Adesso andiamo Verso l'inverno Alle 5 e buio Non si può passare Comunque tuttora Credo che Non si sia deciso Cosa fare Perché ci sono dei Prima c'erano I New Jersey Di cemento E non si passava Adesso hanno messo Quelli in plastica Qualcuno li ha spostati Quindi si passa Ma è una cosa di fortuna Non so È una cosa abbastanza Vergognosa Domani L'assessore I lavori pubblici Fabiola Tonelli Replicherà i residenti Per fare chiarezza Sulla questione E dunque domani Sentiremo Qual è la risposta Dell'assessore Altri 23 Positivi Al coronavirus Sono stati rilevati Nelle ultime 24 ore Nelle Marche Su quasi 809 diagnosi 10 in provincia di Ascoli Piceno 5 in quella di Pesaro Urbino 3 in provincia di Ancona 3 nel Maceratese 2 fuori regione Questi casi comprendono Contatti in ambito domestico E scolastico universitario Altri a soggetti sintomatici E un caso rilevato Nel percorso sanitario I ricoveri invece Salgono da 29 a 30 Ma calano i digenti In terapia intensiva Che ad oggi sono due Uno ad Ancona E uno all'ospedale Di San Benedetto Del Trotto Sono arrivati 400 banchi nuovi Acquistati Dal Comune di Fano Per le scuole I nuovi arredi Già depositati in magazzino Saranno necessari Per garantire Il distanziamento Previsto Dalle norme anticontagio Siamo riusciti A dare una risposta In tempi rapidi Ha commentato L'assessore Ai servizi educativi Samuele Mascarin Attendiamo l'arrivo Anche dei materiali Che le scuole Hanno richiesto Al MIUR Poi procederemo Alla distribuzione Con un piano razionale Per non recare disagio Alla normale Attività didattica E c'era anche Fano Tra le 60 città italiane Che domenica scorsa Hanno ospitato L'evento organizzato Dai volontari Di Plastic Free Per ripulire l'ambiente Sul lungomare fanese Sono stati raccolti Oltre 200 chili Di rifiuti Rimuovere dall'ambiente In un solo giorno 100.000 kg Di rifiuti di plastica È stato questo L'ambizioso obiettivo Di Plastic Free Che domenica scorsa Ha organizzato Una giornata di raccolta In contemporanea In 60 città d'Italia L'associazione guidata Da Luca Di Gaetano Sta riscuotendo Successi continui E senza precedenti Grazie a un'attività Divenuta una vera e propria missione Insieme a lui Ben 160 referenti In tutto il paese Centinaia di iscritti E attivisti Che su spiagge Strade Marciapiedi E piazze Inseguono un unico scopo Liberare il mondo Dalla plastica Anche Fano E tra le città Che hanno aderito All'iniziativa E domenica 90 volontari Hanno raccolto In soli due ore Ben 207 chili Di rifiuti A coordinarli La referente regionale Laura Angeletti Le associazioni con voi In questo nostro appuntamento Erano l'Africa Chiama E anche l'associazione Palla Rotonda Voglio ringraziare Anche la Corce Rossa Per averci donato Un kit di primo soccorso E avere partecipato Attivamente Alla nostra raccolta Quali zone avete ripulito? Allora Abbiamo ripulito Principalmente La zona del lungomare Del Lido E dell'Arzilla Ci siamo divisi In tre squadre La prima È partita Dalla senso struttura Verso il Calamara Quindi verso la zona sud La seconda squadra Si è diretta Dal ponte dell'Arzilla Nel tratto Tra la ferrovia E i Capanni E l'ultima squadra Ha fatto tutto il litorale Nella spiaggia Quindi verso il nord L'associazione di volontariato Che per l'iniziativa Di domenica scorsa Ha raggruppato Bambini, giovani e anziani Sta già organizzando Altre raccolte Per le quali Vorrebbe invitare Anche il sindaco Massimo Seri Prossimo appuntamento In collaborazione Con il Cante di Montevecchio Sarà il 18 ottobre Che cosa avete recuperato In particolare? Allora Abbiamo recuperato Un sacco di microplastica Abbiamo ritrovato Delle batterie Abbiamo ritrovato Un contenitore Con dell'olio Per le macchine Credo fosse E addirittura Un sacco di rifiuti Che galleggiava Sul torrente Anche sostanze pericolose Abbiamo anche ritrovato Una siringa E qui ecco Anche il mio appello Di contattare Ogni volta l'ente di raccolta Quando si trovano Questi tipi di rifiuti Sulle spiagge Non sempre si ha La possibilità Di tenere Un cane In casa Dunque C'è la possibilità Adesso Di adottarne Uno a distanza Grazie ad un'iniziativa Firmata da Melampo Lei è Giada Detta anche Per gli amici Belen Perché è fascinosa E sa di esserlo Gaia, Sciro, Leo, Razio Linda, Rossella Sono loro i protagonisti Del nuovo progetto Del canile Melampo Dopo la perdita Della presidente Simona Maruccini Le 15 persone Che lavorano Nella struttura Di Tre Ponti a Fano Non si sono mai fermate Ed anzi Hanno deciso Di organizzare Un'adozione a distanza Per i 97 amici A quattro zampe Età media 11 anni E c'è chi Da troppo tempo Attende una famiglia Che possa prendersi cura di lui Intanto riceve l'amore Di tutti i volontari Degli operatori E di Cecilia Tornimbeni Che da vice È diventata la nuova Presidente dell'associazione E un primo pensiero Questa mattina Non poteva non andare a Simona Alla quale è dedicato Questo cuore russo Con la scritta Hope La speranza Che lei ha saputo Donare a tanti È un momento particolare Sia da un punto di vista emotivo Perché comunque È una perdita Che ha colpito Tutte noi Ma anche da un punto di vista Gestionale Perché ci troviamo A mandare avanti Una struttura Senza quella che è La sua Colonna portante E quindi È un progetto Che è ambizioso Anche perché Si inserisce in questo momento Particolare E confidiamo Di riuscire a portarlo avanti Nel migliore Dei modi In poche settimane Sono già 55 I cani adottati a distanza Sulla pagina facebook Dell'associazione Sono state pubblicate Tutte le foto Degli animali Con una breve descrizione Chi è interessato Al progetto Può decidere Di contribuire Per un minimo di tre mesi Con una quota Di 15 euro al mese Una quota simbolica Chiaramente Perché il grosso Del mantenimento È garantito comunque Dalla convenzione Con il comune di Fano Non è solo A beneficio dei cani Ma ci piacerebbe Che potesse essere Un momento di apertura Anche alla cittadinanza Per spiegare Che cos'è il canile Qual è la vita Di un cane di canile Per consentire A chi volesse Di toccare con mano Quella che è la nostra realtà Il canile darà anche La possibilità Alle persone Di incontrare Una volta al mese Il cane adottato Con il supporto Di un istruttore cinofilo Stiamo cercando Privatamente Di dirottare Un pochino E di pilotare Tra virgolette Le adozioni Cercando di Far adottare a distanza Cani più problematici Ci sono comunque In canile Cani che hanno problemi Di aggressività Che hanno problemi Magari di timidezza Ci sono cani più fobici Che magari non riescono Ad avere un rapporto fisico Proprio con questi adottanti Stiamo cercando Di farli adottare Dalle persone Che ci tengono A partecipare A questo progetto Ma che sono molto lontane E invece cercare Di dirottare Le adozioni di cani Più socievoli A persone che abitano qui E abitano in città Perché così possono Costruire un rapporto Fisico con i cani Lunedì prossimo Dopo il nostro telegiornale Occhio a notizia In diretta Qui nei nostri studi Riprende Primo cittadino Dopo la pausa Dedicata alle elezioni Stazioni regionali Ospite di questa nuova edizione Sarà il sindaco di Pesero Matteo Ricci Interrotto a inizio anno A causa del lockdown Lunedì 5 ottobre Prenderà il via La nuova stagione Di primo cittadino Il programma di Fano TV Che da sei anni Ospita i sindaci Della provincia Di Pesero e Urbino E non solo Il protagonista Della prima puntata Sarà il sindaco di Pesero Matteo Ricci Con il quale Parleremo dei risultati Delle regionali Dell'avvio delle scuole Con modalità del tutto nuove A causa delle norme Anticontagio Ma anche di viabilità E dei lavori in corso O programmati Nella città Della musica E della bicicletta Lunedì 12 poi Arriverà Nei nostri studi Massimo Seri Sindaco di Fano Che nei prossimi giorni Potrebbe annunciare Un rimpasto di giunta Lunedì 19 invece Sarà la volta Di Stefano Aguzzi Primo cittadino Di Colli al Metauro Che ha già escluso L'arrivo in comune Di un commissario Nel caso in cui Il neo governatore Delle Marche Francesco Acquaroli Dovesse proporgli Un posto Nella giunta regionale L'appuntamento Sarà sempre Alle ore 21 circa Subito dopo il telegiornale Occhio alla notizia Emissione salute Sempre gli stessi Anche i numeri Di riferimento 0721 86 14 33 Per intervenire in diretta E porre una domanda Ai sindaci O fare richieste Mentre al 338 49 68 250 Potrete inviare Un messaggio Anche con Whatsapp Per avanzare Suggerimenti E segnalazioni Appuntamento dunque A lunedì prossimo Intanto il nostro Telegiornale finisce qui Tra poco la pubblicità Le previsioni del tempo Poi uno speciale Dedicato a un approfondimento Dedicato a Oltre la bici Grazie per averci seguito Appuntamento Con l'informazione Domani mattina alle 7 Con la rassegna stampa Arrivederci due dit m dokita in N的話 Oltre la bici Anche i Peace